Non abbiamo voluto cerimonie ufficiali per ricordare papà. Non abbiamo voluto lapidi, che una volta murata un edificio diventano tutt'uno con i muri. Una cosa fredda e senza vita. Invece ogni anno, il 29 agosto, io e Davide abbiamo voluto ricordare papà a modo nostro. Nel 2004, per l'anniversario, un gruppo di studenti ha affisso per tutta la città migliaia di adesivi che ricordavano libero grassi. Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Una giornalista ha chiesto a mia madre, cosa ha pensato di questa iniziativa? Lei ha risposto che se sono dei ragazzi potrebbero essere miei nipoti perché la pensano esattamente come me. E il giorno dopo? Chi è? Pina, siamo i tuoi nipoti. Salute. E' se fosse un' attenzione. Scusate. Grazie a tutti